Ciao a tutti ragazzi eccoci qua con il nuovo sneak peek finalmente le tre leggendarie ragazzi se mi chiede se fosse perso il video scorso che ho fatto sempre oggi ragazzi 2 maggio sulle altre tre carte che verranno introdotte su Clash Royale ecco qui ragazzi le altre ulteriori tre carte che sono invece le tre leggendarie eccole qua ragazzi allora andiamo subito a vedere di che cosa si tratta e tra poco vedremo un piccolo gameplay eccoci qua ragazzi dunque la prima carta overminer che sarebbe il minatore dovrebbe essere questa la giusta traduzione italiana praticamente sbloccabile in arena numero 6 ragazzi si può schierare in qualsiasi punto dell'arena e andrà dunque ad attaccare come vedete qui ragazzi il gameplay di Chef Pat ha messo praticamente il minatore sulla torre del nemico direttamente lì vicino quindi ragazzi si può mettere in qualsiasi punto e andrà a fare ovviamente pochi danni seconda carta leggendaria ragazzi il mastino sbloccabile in arena numero 4 ovviamente ragazzi lo sapete già il mastino ripreso da Clash of Clans quindi funziona allo stesso modo e quando esplode praticamente spawna i cuccioli di lava si utilizzerà dunque ragazzi come tank e avrà un costo di 7 elisir e l'ultima leggendaria ragazzi è questa qui nuovissima leggendaria ragazzi si chiama Sparky non so qual è la traduzione italiana quindi per il momento ragazzi lo chiamo Sparky poi andrò a modificare nel titolo il giusto nome allora ragazzi costo 6 di elisir e praticamente eccolo qua ragazzi è una struttura praticamente sopra delle rotelle sopra 4 rotelle e funziona ragazzi sempre quasi un tesla portatile come vedete spara un laser o meglio spara una palla di elettricità e possiamo vedere ragazzi che ci sono 3 anellini che praticamente quando diventa bianche significa che si è totalmente ricaricato ed è pronto per sparare ragazzi questo Sparky praticamente farà danno splash e distrugge qualsiasi cosa troverà nel suo orizzonte nel suo cammino colpisce solamente via terra e non via aria quindi ragazzi vediamo subito un gameplay vediamo qua che Chef Pat comincia subito a schierare la sua fornace di cui vi ho parlato nel video di qualche ora fa e vediamo che in questo momento invece va a posizionare va a schierare direttamente sulla fornace avversaria il minatore che andrà ragazzi a togliergli qualche danno qui ragazzi invece Chef Pat posiziona il mastino lavico che in questo caso va ad attaccare le truppe nemiche come ho detto prima ragazzi quando il mastino crepa come su Clash of Clans ovviamente andrà a schierare i cuccioli di lava molto interessante ragazzi sapevo già che il mastino lo avrebbero inserito infatti già come sempre ve l'avevo già detto in uno scorso video e vediamo invece che questa volta il player nemico ha posizionato lui ha schierato lui invece il Sparky lo Sparky che non so ragazzi come ho detto prima non so come si chiama esattamente qual è la traduzione ha spartto un colpo e purtroppo ci ha abbandonato dunque ragazzi queste sono le tre leggendarie non vedo l'ora di fare il gameplay qui sul canale ovviamente ragazzi andremo a fare qualche opening per cercare di portarvi dei deck quindi ragazzi minatore in arena 6 mastino in arena 4 e Sparky in arena 6 ci vediamo dunque presto ragazzi con il gameplay mi raccomando un like e ci vediamo molto presto ciao ragazzi